Il nostro scopo quest'oggi è veramente mettere da parte differenze perché questa terra ha bisogno di tutte le energie presenti, possibili, immaginabili, quelle di questo territorio e quelle di questo territorio che non sono più su questo territorio, come me che vivo purtroppo in Germania, purtroppo per fortuna non si è capito, però ascoltiamo la voce di tutti quanti, sono tutte persone che amano questo territorio e spero di sentire tante volontà che si muovono in un'unica direzione. Partiamo con Corapi Giuseppe, Giuseppe a te il primo intervento, prego. Grazie.